Piccola passeggiata in montagna, la mia macchina sta lì, la mia meta è lì. Allora, vengo da lì e voglio arrivare almeno sul piano, sulla piana lì e poi vedere. Ciao! Non male come posto, eh! Ho ancora un bel po' di strada da fare, è lì sopra che voglio arrivare. Ciao! E' una spanta, una spanta, sono arrivato in cima. Sì, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sono quasi arrivato. La macchina sta lì, lì, lì. Quanto è bello stare qua. Sono venuto da, cioè sono sceso da, ecco, lì. E adesso scendo alla macchina.